Inflazione, rincari e concorrenza dei prodotti surgelati mettono a rischio i forni e le produzioni. In occasione della giornata mondiale del pane che si è celebrata lo scorso 16 ottobre, Confartigianato Imprese Sardegna accende i riflettori sull'importanza di acquistare prodotti locali cotti nei forni del territorio. Nell'isola il comparto comprende 900 imprese e 3.000 addetti e spiega l'associazione di categoria e i panificatori sardi continuano a sfornare pane ma a causa del bassissimo potere d'acquisto dei cittadini, dell'inflazione galpante, dei rincari delle materie prime e dell'energia faticano a far quadrare i conti o lavorano in perdita. Marina Manconi, presidente di Confartigianato Gallura e panificatrice, parla anche della mancanza di figure professionali. In troppi, spiega, stanno sottovalutando l'importanza della costruzione di percorsi di inserimento nelle imprese di panificazione di giovani che possano imparare i segreti della tradizione e quindi garantire il passaggio generazionale. Il rischio è di perdere sia un'importante fetta di mercato ma anche la qualità di chi propone pane appena sfornato con materie fresche a quello con semi lavorati e congelati. Per l'associazione artigiana è infine indispensabile tutelare le imprese che in questi anni di crisi e calo dei consumi hanno comunque tenuto con forza e determinazione sorretti dalla loro qualità. Grazie a tutti. Grazie a tutti.